Sono ovviamente grato a tutti, soprattutto per l'affetto che io ho sentito in modo permanente per la mia comunità e per la mia terra. Ci sono tanti modi di lavorare, di fare un film in un luogo, ma voi lo avete fatto nella maniera più pugliese che io possa immaginare, attraverso rapporti sinceri, costruendo legami, mi auguro, destinati a durare tutta la vita e soprattutto senza manipolazioni e mutazioni del vero. La semplicità con la quale Carlo Verdone legge la nostra vita è commovente, poetica, ma fa anche fare un sacco di risate e questo ovviamente non guasta perché questo spirito di autoironia, immaginate un po', fa parte addirittura di uno dei pilastri del nostro modo di intendere la Puglia. Tanti anni fa, 15 anni fa, quando cominciamo questo percorso di emancipazione, dicemmo a noi stessi che dovevamo conservare la capacità di ridere delle cose che facevamo. Questo film ci riempie di poesia, di allegria e di gioia di vivere. Quindi ringrazio Carlo e tutti i suoi collaboratori, il Presidente, perché ovviamente a Bari il Presidente non sono io, il Presidente dell'Aurentis, gli cedo volentieri il ruolo almeno per i confini della città. Vi ringrazio dal profondo del cuore, perché tutto quanto è avvenuto proprio come avrei voluto, con tutto il cuore, se mi permettete, perché è anche un film dedicato all'amicizia, che assieme all'amore sono le due cose per le quali sicuramente vale la pena vivere. Grazie. L'ho girato un po' in lungo e in largo perché addirittura abbiamo ambientato degli appartamenti romani a Bari, quindi il film è stato praticamente girato al 98% tutto in Puglia, ho fatto solo qualche esterno a Roma, di raccordo. Una volta che stavamo qua era assurdo ritornare e fare gli interni a Roma, quindi abbiamo girato qua. Quindi da Bari, poi si andava a Polignano, Monopoli, Monopoli, Otranto, Castro, non lo so, forse ho dimenticato pure qualche luogo, però alla fine ho cercato di far vedere una bella Puglia, di fare una bella fotografia, ma soprattutto di raccontare una bella storia. Quindi mi aspetto di aver fatto una bella cosa che il pubblico la sappia apprezzare. Ho avuto con me un cast meraviglioso, sono stati uno più bravo dell'altro, di meglio non potevo trovare e quindi il tema è il tema dell'amicizia, lo sapete, la storia di un'equipe chirurgica che poi si declina questa amicizia in tanti modi durante lo svolgimento della storia, piena di sorprese, piena di colpi di scena, però è un film che ha i suoi momenti di grande comicità e momenti anche di grande intimità, però con questo bello sfondo per me inconsueto, abituato a Roma, che è una città bella, importante, però a certe volte un po' pesante, la Puglia mi ha dato molta leggerezza, mi ha dato tanti colori, tante atmosfere diverse, tante facce di comparse diverse che non è poco e così mi ha portato anche a dirigere e a recitare anche in maniera diversa. Diciamo venire in Puglia per me è una consuetudine, una piacevolissima consuetudine, sono un vicino di casa per così dire, quindi mi sento in un posto che mi accoglie sempre con calore e quindi grazie a Carlo ci sono tornato ancora una volta, quindi viva la Puglia. Mi sono trovata benissimo, mi sono trovata benissimo con loro, mi sono trovata benissimo con voi, tutti pugliesi, da Bari in giù, siamo stati veramente accolti bene, ci avete fatto ingrassare, però noi camminavamo e dimagrivamo, per cui non ci avete fregato, viva la Puglia. Sicuramente ti ricordi straordinario, ho condiviso un sacco di tempo anche con la mia famiglia, sono venuti qui, mi hanno raggiunto i miei figli, con mio marito, siamo stati a Otranto, un centro bellissimo, che facevano questi bagni a qualsiasi ora del giorno, un cibo stupendo, gente generosa, conosciuto queste signore fantastiche con cui camminavo la mattina, mi hanno indicato la strada e sono diventate le mie amiche del mattino, ci vedevamo alle sei e mezzo, andiamo a camminare e poi prendiamo il caffè. Ricordi splendidi, una terra meravigliosa, già l'amavo ma adesso ancora di più. Io sono abituato alla Puglia, vengo da tanti anni a Otranto e tutti gli anni faccio almeno venti giorni l'estate e vengo anche l'inverno qualche volta quando scappo e all'amo molto, quindi per me è stata un'ennesima conferma che il mio destino è qua, per cui anche il lavoro mi ha portato qua l'ho colto come un segnale positissimo.